A Roma, presso il Ministero dello Sviluppo, si è aperto il tavolo delle trattative per la realizzazione della centrale elettrica della società Terna a Montesano sulla Marcellana. Un confronto che si è reso necessario dopo le vittorie giudiziarie raggiunte dal Comune a contrasto dell'opera che la società vuole realizzare nella cittadina salernitana. I lavori avviati un po' di anni fa continuano a rimanere bloccati a causa dei ricorsi vinti dal governo locale anche dinnanzi al Consiglio di Stato e dell'inchiesta penale in corso. Fino ad ora la giustizia ha di fatto confermato che il progetto per la costruzione della centrale elettrica non dispone di tutte le autorizzazioni necessarie. Terna però vuole realizzarla perché è fondamentale per il potenziamento del servizio di distribuzione di energia elettrica sul territorio nazionale. Per questo motivo ha chiesto al Ministero di aprire un tavolo di discussione tra le parti interessate con l'auspicio di individuare una soluzione condivisa da tutti. Il primo confronto si è tenuto giovedì scorso tra Regione Campania, Terna e Comune per l'ente locale e rappresenta il Sindaco e i due consiglieri. Dopo un'accesa discussione la società ha proposto un ridimensionamento della struttura da realizzare però nella stessa area. Il Sindaco Donato Fiore Volentini ha chiesto che la proposta venga messa su carta e trasmesse in Comune per poterla discutere con il Consiglio e i cittadini. Chiarendo però che fino ad oggi nessun tribunale ha dichiarato che l'opera è in regola con i permessi e che sullo stesso progetto continua a pesare un'inchiesta giudiziaria penale. Per il primo cittadino fino a quando non verranno chiusi tutti i capitoli dinnanzi alla giustizia nessuna decisione può essere assunta. Questo evidentemente lascia intendere che Montesano non vuole cedere alle richieste di Terna così facilmente e soprattutto non pare intenzionata a far costruire la centrale elettrica in quell'area a due passi da una scuola e da alcune abitazioni anche se ridimensionata. Le trattative sono appena iniziate ma già sembrano essere destinate a durare a lungo.